I dati su occupazione ed esportazione in Abruzzo relativi a tutto il 2018 ci raccontano di una regione insensibile crescita, ma ancora troppo lentamente. Ad illustrare e commentare i risultati l'economista Pino Mauro e il segretario generale della CISL Leo Malandra. Non ci sono segni meno da evidenziare, e questo è già positivo, ma non c'è da eludersi più di tanto se rispetto al 2017 l'occupazione è salita dell'1,4%, più 8.000 posti di lavoro contro il dato nazionale dello 0,8% e le esportazioni del 3,8%. Nel primo caso sono i settori dell'edilizia e del terziario a compensare le gravi perdite di posti di lavoro nel settore manifatturiero e sulle esportazioni, come sempre, ci salva il settore automotive nella provincia di Chieti, che da solo costituisce, pensate, il 50% di tutto il comparto. Ma la riflessione che più preoccupa, come spiega l'economista Pino Mauro, è il confronto con il periodo pre-crisi di dieci anni fa. C'è un ritardo rispetto al 2008, c'è una fase pre-crisi, ancora mancano 12.000 posti di lavoro, questo significa che, sono trascorsi dieci anni, questo significa che l'economia abruzzese cammina molto a rilento. Torna allora di moda il vecchio adagio, Abruzzo prima regione del sud o ultima regione del nord? Quello che è certo è che persiste una fase di stallo caratterizzata dalla solita disomogeneità tra aree interne e aree costiere e soprattutto tra grande imprese e piccola impresa, con quest'ultima che rappresenta il 90% del tessuto economico abruzzese. Leo Malandra, segretario generale Cisla, Abruzzo Molise, rivolge dunque un appello al presidente Marsiglio e alla sua squadra di governo. Buone cose dal documento programmatico del neo governatore, ma le parole devono seguire i fatti. Vediamo con favore quello che è stato il documento programmatico, e ne prendiamo atto del documento programmatico del presidente Marsiglio, che punta moltissimo sulle infrastrutture e sul riaggiornamento del masterplan. Anche da questo punto di vista, quel documento è importante. Noi chiediamo che si apra un confronto serrato con la Giunta, proprio per ridiscutere il masterplan, ma per rendere cantierabili il prima possibile tutti i progetti che in qualche modo possono essere messi a cantiere, perché questo è il modo vero per poter ridare un volano di sviluppo alla nostra regione. Grazie. Grazie. Grazie.